Allora, per Bao uscirò con The Prism, che è il primo libro di una serie di sette, quindi un'impresa impegnativa, ed è un, lo definirei, un anime su carta di fantascienza e musica. E' un modo per esplodere finalmente nel fumetto il mio universo visivo e le tematiche che adoro, che è appunto la fantascienza, lo spazio e la musica soprattutto. E' la storia di un viaggio oltre i limiti per sfidare i propri limiti ed è anche il mio viaggio proprio produttivo nel fare quest'opera, conto i miei stessi limiti. Essendo il mio primo libro con Bao, però conosco da tempo gli editori di Bao, Michele e Kate, Bao è la possibilità di fare un progetto esattamente come lo senti, come lo vuoi, inserirlo nel mercato, in un mercato che si espande, ma dandogli una forma veramente simile al tuo spirito artistico ed essere seguito quindi da un editor che sa questo e sa valorizzare questa cosa. E quindi mi sento veramente bene e penso alla storia che andremo a fare con Bao più che quella che è già stata fatta.